ciao ragazzi io sono ara benvenuti questo nuovo video è arrivato è arrivato l'unboxing più difficile dell'anno per me quello di agosto mi sto già sciogliendo solo per preparare questa scenografia mi sono veramente fatto una sudata incredibile comunque come avete visto ci sono così tanti pacchi che praticamente mi fanno da sfondo credo non sia mai arrivato una quantità di roba del genere direi di non perdere altro tempo visto che c'è così tanta roba da aprire facciamolo subito ma prima vi ricordo che se volesse acquistare qualsiasi cosa vediate in questo video la potete trovare nel mio sito ara shop nella scheda lì in alto se youtube me le fa mettere oppure lo trovate comunque qui sotto nella descrizione del video o basta scrivere ara shop su google ma andiamo a prendere il primo pacco proviamo a prendere questo senza fare danni o eccoci qua lo mettiamo qua e andiamo a scoprire insieme il contenuto e cominciamo in maniera abbastanza softi non ci perdere tanto tempo su queste cose le abbiamo già viste parecchie volte sono i due ammirali di one piece sempre per il fatto che faccio sempre rifornimento prima che vada nei soriti e poi gogetta super sena di quarto livello model kit ma andiamo avanti ecco qua e andiamo a scoprire insieme il suo contenuto e qui le cose si fanno già più serie perché c'era un sacco di roba e questo cominciamo con la prima chicca ovvero questo effettino aura chissà chissà per quale figure andrà bene questo effetto in quest'aura color rosso violaceo ma chissà vedremo se dopo arriverà qualcosa del genere comunque continuando ancora abbiamo anche queste che sono delle novità ovvero dei model kit di gogo e vegeta però non sono diciamo complicati in realtà neanche quelli sono complicati come le figure rice ma sono appunto presente delle statuette montabili si può dire così il risultato sarebbe questo ragazzi tento di farvelo vedere ecco qua questa statuetta appunto di goku e vegeta blu ovviamente stiamo parlando di dei kit dal costo veramente bassissimo però le confezioni fighissime devo dire continuando ancora ragazzi è arrivata una chicca è arrivato iron man eccolo qua ma finalmente queste sono rifornimenti perché questo qui quando andrà esaurito farà piangere tanta 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 gente quindi sto approfittando dicevo comunque dove c'è iron man però c'è anche cap è arrivato finalmente capitan america nella versione final battle con scudo scudo rotto martello il viso intercambiabile e tutto il resto ragazzi anche questo assolutamente imperdibile e ancora le figate non finiscono qui abbiamo anche trafalgar lo uno dei miei personaggi preferiti di one piece per la linea variable action heroes di mega house eccolo qua fighissimo tra l'altro anche queste confezioni mi piacciono veramente tanto perché non occupano tanto spazio ed è sempre meglio così ultimo ma non ultimo da questo paccone abbiamo il cancro death mask nella versione meat cloth ex original color edition eccolo qua anche questo attesissimo da molti anche questi ragazzi se dovete prenderli qualsiasi meat cloth ex prendetelo subito prima che sparisca prima che salga di prezzo eccolo qua lo posizioniamo qua come potete vedere sono già stanchissimo estrematissimo ma ci sono un sacco di altri pacchi da aprire quindi continuiamo prendiamo quest'altro qui enorme lo posizioniamo qui e andiamo subito a vedere il contenuto questo ragazzi è il pacco dei prezzi grossi cominciamo con questo ovvero il gigante di ferro prodotto dalla diamond select guardate qua che figata bello grande con un po di accessori tra cui il bambino figata davvero questo davvero un gran pezzo ma attenzione perché qui ne abbiamo veramente delle belle cominciamo con questo ecco qua statua di batman direttamente la serie animata sempre prodotta dalla diamond select in questa posa veramente fighissima non so se si riesce a vedere credo di sì in cui sta sparando appunto il suo rampino molto molto figo come pezzo anche questo e attenzione perché è arrivata anche questa bella iron studios di capitan america sempre da endgame guardate qua che figata eccola la statua bellissima c'è la possibilità di posarla anche senza martello questo ragazzi è un bellissimo pezzo in resina ovviamente in edizione limitata come tutte le iron studios e udite udite ultimo ma assolutamente non ultimo è arrivato un pezzo di cui mi ero completamente dimenticato l'esistenza ma che è già rarissimo stiamo parlando di questo ragazzi il batman black and white disegnato niente poco di meno che da todd mcfarland guardatelo guardate che figata questa ovviamente edizione stralimitata eccola qui guardate il retro della confezione dove c'è appunto la statua che è pazzesca a dir poco pazzesca e poi qui ci sono le altre disponibili questo ragazzi è veramente veramente un gran pezzo ora procediamo con quest'altro pacco e andiamo subito a vedere il contenuto e qui abbiamo due chicche ovvero questa catwoman direttamente da batman in ritorno ragazzi michelle pfeiffer eccola qua bellissima prodotta dalla diamond select sempre comunque stato ad un prezzo contenutissimo ma con un livello di dettaglio incredibile poi qui abbiamo questo brown box eccolo qua andiamolo ad aprire insieme molto cautamente ed ecco qua che riusciamo a estrarre con calma il contenuto e lo sapevo che era lui lo sapevo non avevo letto cosa ci fosse ma avevo intuito ecco qua ragazzi abbiamo scusate il rumore kamado tanjiro direttamente o tanjiro direttamente da demon slayer che è questo anime manga che sta avendo un successo pazzesco questo per la linea figure zero ora non si riesce a intravedere molto bene cosa ci sia all'interno come al solito queste confezioni bandai delle figure zero non lasciano vedere bene la statua comunque il contenuto è questo ragazzi lui con questo effetto meraviglioso intorno veramente un pezzo da non perdere se siete fan di questo anime manga ma non finisce qui perché ci sono tanti altri pacchi continuiamo e continuiamo con questi due ragazzi sono grandi ma all'interno ci sono solo due pezzi ma due pezzi di tutto rispetto che hanno fatto piangere già tanta gente che se li era persi quindi questi qui ragazzi prendeteli subito se li avete persi prima di cosa stiamo parlando ma naturalmente di andromeda e sirio per la linea mit cloth revival eccoli qua ragazzi questi qui erano andati esauriti praticamente subito bandai fortunatamente ha dato un'ultima possibilità per prenderli a chi se li fosse persi quindi non fatevi scappare anche questa volta penultimo pacco ragazzi il nome che c'è scritto sopra vi avrà già spoilerato tutto ma andiamo a vedere appunto il contenuto ed ecco qui l'attesissimo il richiestissimo e l'esauritissimo beta merak agen stiamo parlando di artax eccolo qua per la linea mit cloth ex di bandai come al solito tutti questi mit cloth ex si esauriscono già in preordine fortunatamente prevedendo tutto ciò ne ordinate un bel po di copie in più quindi dovrei averne forse un paio disponibili ragazzi vanno veramente a ruba quindi se lo volete trovate anche questo sul sito mi raccomando prendetelo subito prima che salga di prezzo anche questo ed eccoci qua con l'ultimo pacco finalmente cosa ci sarà mai all'interno boh che non c'è scritto qui no assolutamente andiamo a vedere subito ragazzi andiamo a vedere subito l'attesissimo Goku Kaioken ed ecco qui finalmente la nuova versione del Goku Kaioken di Bandai per la linea SH Figuarts guardatelo qua che figo con i capelli all'insù con i capelli normali con questo color rosso un po' metallico diciamo un po' perlato si può dire così spettacolo davvero e questo qui naturalmente si potrà mettere insieme a quest'aura che abbiamo visto prima chiaramente venduta separatamente da Bandai per chi la volesse la può prendere insieme altrimenti si può prendere semplicemente solo Goku ed eccoci qua ragazzi con una parte degli arrivi di oggi perché erano così tanti e grandi soprattutto che non sono riuscito a metterne di più nell'inquadratura purtroppo comunque io vi ricordo un'ultima volta che se fosse interessati a qualsiasi cosa abbiate visto in questo video la potete trovare nel mio sito ARA Shop nella scheda di in alto se c'è se no qui sotto nella descrizione del video io vi ringrazio come sempre per la visione spero che vi siate divertiti a vedere tutti questi spacchettamenti lasciate il like per supportarmi per il caldo mi sto sciogliendo completamente grazie ancora a tutti ciao da ARA e collezionate sempre